Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, mettetevi tutti comodi perché oggi andiamo a vedere una partita allucinante è la sfida di ritorno tra il campione delle isole Marshall e il campione delle isole Maldive una partita molto intensa con tanto seguito e i due campioni che sudano usano il fazzoletto per asciugarsi la fronte prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace e di iscriversi al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo ringrazio anche i nuovi abbonati G Codo e Andrea e iniziamo ok eccoci qui, i due giocano in una sala immensa con mille spettatori, sembra di essere in un ring di pugilato e invece si gioca a scacchi, i due si consultano velocemente con i rispettivi allenatori poi prendono posto sulla scacchiera e il campione delle Maldive inizia con pedone D4, questa è la sua preparazione segue pedone D5, simmetrica chiaramente, cavallo C3, ecco la sorpresa il campione delle Maldive ha passato ben sei mesi a preparare questa apertura con D4, cavallo C3 vediamo cosa succede segue pedone F5, il campione delle isole Marshall esce subito dagli schemi e ora quello delle Maldive non sa più cosa fare, siamo solo alla seconda mossa e già non sanno più cosa fare e allora gioca pedone in F4 perché originariamente voleva giocare E4 però capisce che non è più possibile perché ci sono entrambi i pedoni che attaccano E4 e quindi cambia piano e gioca F4 ok, la partita prosegue con pedone C6 e arriva cavallo A4 dopo questa mossa l'allenatore delle isole Maldive richiama il giocatore e gli dice di concentrarsi questo si alza e guarda l'allenatore in faccia e gli dice ma perché, cosa sta succedendo? no, niente, concentrati, gli dice e si rimette a sedere e inizia a giocare ok, qui il nero continua con donna A5 chiaramente il campione delle isole Marshall attacca il cavallo il cavallo ritorna in C3, da notare la perdita di tempo, no? cavallo C3, cavallo A4, poi di nuovo cavallo C3 segue pedone B5, molto aggressivo il campione delle isole Marshall vuole giocare B4, comunque vuole dare noia al cavallo e ci riesce qui a deconcentrare il campione delle isole Maldive perché infatti in questa specifica posizione si distrae e gioca pedone B3 lascia clamorosamente il cavallo in presa allora l'allenatore lo richiama, i due stanno conversando insieme e il campione delle isole Marshall non capisce cosa sta succedendo il pubblico è in silenzio e gioca clamorosamente pedone B4 manca il pezzo in presa questi non sono neanche taticismi di base, cioè qui siamo proprio alle prime armi eppure questi sono due campioni ragazzi segue pedone A3, non ci posso credere il campione delle Maldive di nuovo non sposta il cavallo da C3 ma lo lascia di nuovo in presa ok, allora pedone per C3 questa volta è quello delle isole Marshall non perdona e cattura il pezzo bene, siamo a 7 mosse il bianco ha già un pezzo in meno e qui succede già qualcosa di veramente assurdo il campione delle isole Maldive richiama l'arbitro e fa cacciare via l'allenatore perché ritiene di essere stato distratto perché è richiamato già ben due volte nelle prime sette mosse quindi l'allenatore si allontana dalla sede di gioco arriva Re F2 ora il bianco inizia a fare seriamente ora Re F2 io non l'avrei mai giocata in questa posizione non capisco che mossa è mossa psicologica possiamo dire bene, donna C7 il nero ritira indietro la donna attacca F4 cavallo C3 il bianco sviluppa un pezzo segue pedone E5 oh mio Dio attenzione a dove metti i pedoni se ne accorge subito in realtà il campione delle isole Marshall di aver fatto una cavolata perché sta regalando un pedone qui però chiaramente ha un pezzo in più vuole aprire le linee segue pedone per E5 alfiere C5 scacco vedete? voleva aprire le linee quando c'è la possibilità di dare scacco a questi livelli danno sempre scacco praticamente ok, Re G3 guardate che mossa ora il Re sta per diventare il pezzo più avanzato sulla scacchiera per il bianco pedone H5 il campione delle isole Marshall vuole chiudere subito la partita vuole attaccare segue Re H3 donna in F7 il nero trasporta la donna vuole giocare donna G6 per entrare a dare scacco matto in G4 l'ha visualizzato è pronto a darlo arriva G3 ma qui succede qualcosa di incredibile il campione delle isole Marshall è proprio sfortunato voleva giocare donna G6 ma gioca clamorosamente donna F6 mette la donna in presa e se ne accorge troppo tardi si accorge dopo aver lasciato il pezzo quindi purtroppo deve fare questa mossa e allora succede che perde la donna chiaramente ma notate qui l'eleganza del campione delle isole Marshall chiaramente si arrabbia e decide di doppiarsi i pedoni da solo non sviluppa neanche il cavallo in G8 insomma sembra di assistere a un bel spettacolo sì, però una partita abbastanza disastrosa pedone B4 il bianco attacca l'alfiere la sfiere si sposta in F2 perché ora il campione delle isole Marshall sta iniziando a preparare un attacco piano piano silenziosamente ok, cavallo D4 cavallo E7 il nero sviluppa un pezzo cavallo E6 oh mio dio il cavallo è in presa ma beh, è chiaro se tu sposti sempre il solito pezzo in apertura prima o poi lo perdi da notare che i due alfieri sono a casa la donna è a casa le due torri ancora devono muoversi il re si trova in H3 e il cavallo che ci fa in E6? che ci fa questo cavallo in E6? e beh, il campione delle Maldive gioca in questo modo arriva alfiere per E6 anche perché i due sanno benissimo che non bisogna muovere troppe volte lo stesso pezzo in apertura però sono molto in tensione in questa partita sudano continuamente si alzano dalla scacchiera ritornano una grandissima sfida questa arriva alfiere G2 per il bianco torre G8 vedete il nero prepara silenziosamente l'attacco ok Re H4 ora spiegatemi voi questa mossa perché io non lo so però è bellissima da vedere sta mossa Re H4 a cosa servirà mai? incredibile attacco di Re non vorrà mica catturare il pedone in H5 assurdo cavallo in G6 scacco il Re torna indietro in H3 segue cavallo D7 per lo meno il nero ha finito lo sviluppo ha perso la donna però ha finito lo sviluppo ok qui segue torre F1 il campione delle isole Maldive attacca l'alfiere in F2 il campione delle isole Marshall non so veramente ha un blackout non so cosa gli succede qui ha finito lo sviluppo non sa cosa fare gioca a pedone C5 lascia l'alfiere in presa segue torre per alfiere chiaramente grosso vantaggio per il bianco pedone per B4 pedone per B4 torre B8 la torre attacca il pedone in B4 torre per A7 il bianco riesce a entrare ora vuole attaccare il Re del Nero cavallo in B6 alfiere A3 con alfiere A3 il bianco vuole giocare B5 e attaccare in E7 cavallo C4 il cavallo attacca l'alfiere ma il bianco continua appunto con il suo piano pedone B5 ci può stare attiva l'alfiere segue cavallo per alfiere e attenzione perché qui il bianco non riprende il cavallo il cavallo è in presa nooo gioca per B6 ormai cambia idea vuole andare a promozione vuole cercare di andare a promozione benissimo torre per B6 il nero neanche si accorge di dover salvare il cavallo lo lascia in presa torre autoscacco a questi livelli chiaramente se puoi dare scacco dai scacco perché no re in F7 beh scacco ancora torre A7 cavallo in E8 beh pedone E4 questo cavallo praticamente rimane in presa non so per 10 mosse ma ora dovete veramente fare molta attenzione guardate cosa succede qui cosa fa il bianco qui in questa posizione intanto sta regalando un pedone no segue pedone per pedone torre E2 mossa incomprensibile a cosa serve torre E2 se c'è la donna che attacca H5 stai bloccando la diagonale alla donna stai mettendo la torre in una casa dove non attacca niente ma in realtà ha un piano attenzione in realtà ha un piano vediamo cosa succede torre F8 vabbè questa è ancora peggio cioè questa è ancora peggio rispetto alla mossa di prima ok torre per E7 arriva un sacrificio di qualità inaspettato da parte del bianco re per torre chiaramente donna in E1 attenzione cosa vorrà fare il bianco torre in B2 da parte del nero attacca il pedone in C2 torre per E4 oh mio dio praticamente il campione delle Maldive aveva calcolato tutto questo voleva sacrificare entrambe le torri perché voleva attaccare il re si sentiva troppo stretto e in pratica qui sta perdendo tutti i pezzi ma poi qui se ne esce di nuovo con re H4 vuole assolutamente catturare questo pedone ok il nero qui può catturare in C2 ma gioca torre H8 difende il pedone arriva donna per E4 cavallo per C2 e pedone F5 ok attenzione è tatticismo di base questo il bianco sta per catturare l'alfiere in E6 perché l'alfiere è inchiodato no peccato che addirittura qui c'è torre B4 questo è il tatticismo di base vero e proprio la donna sarebbe inchiodata ma il nero lo manca clamorosamente e gioca re D7 oh mio dio segue chiaramente pedone per alfiere re D8 pedone 7 re in C7 oh mio dio cosa sta succedendo attenzione che il campione delle Maldive può chiudere la partita può andare a promozione e sbaglia clamorosamente gioca donna in A8 ragazzi non ci posso credere non ci posso credere ora il nero addirittura ha posizione completamente vinta con torre per donna ma cosa succede si segue torre per donna promozione torre per e ora il bianco rimane solo con tre pezzi e beh piano piano inizia a regalarli tutti regala pure l'alfiere regala tutto praticamente li va a perdere e uno dice vabbè ma ormai il nero qui ha vinto il nero vince facile in questa posizione certo il pubblico infatti stava tutto esaltato saltavano facevano il tifo e arriviamo in questa posizione dove c'è addirittura matto in tre puoi dare a matto in 10.000 modi diversi il bianco però non abbandona perché è una sfida seria è una sfida molto sentita questa ok arriva re in e6 torre scacco re f6 torre scacco di nuovo re in g7 torre scacco di nuovo il re si sposta in f8 la torre viene in e5 perché era in presa e quindi niente il bianco va avanti con il re ma poi il nero sacrifica già un pezzo ovvero la torre benissimo non è finita qui segue torre e5 re g6 donna in g4 scacco da notare che qui uno può dare anche il matto del corridoio può fare quello che vuole molto semplice ad esempio poteva fare donna f4 torre in g5 donna h4 scacco matto e invece il re del bianco continua ad andare a giro ok torre e8 re in f7 attenzione momento critico della partita donna h5 scacco re g7 e cavallo in d5 la partita finisce per stallo una partita veramente allucinante questa grandissimo ritorno di questi due campioni con ben mille spettatori paganti avevano pagato il biglietto per assistere a questo match spettacolare 500 milioni di visualizzazioni nel mondo cioè non ci posso credere è finita per parità quest'anno questa è stata la sfida chissà l'anno prossimo cosa succederà grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di mettere mi piace di iscrivervi al canale dai arriviamo a questi 50.000 iscritti grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti